L'energia sostenibile è un modo di fruizione dell'energia dalla produzione agli usi finali secondo forme che mantengono e preservano l'equilibrio tra l'uomo e l'ambiente che lo circonda. Questo può garantire un modello di sviluppo che garantisce da un lato la salva guardia dell'ambiente e dall'altro permette all'uomo di soddisfare i propri bisogni sia nel presente sia nel futuro. Abbiamo fornito un supporto nel processo di validazione tecnologica su moduli per produrre idrogeno a osse di solidi per solid power. Abbiamo disegnato un processo di conversione dell'ammoniaca direttamente in energia elettrica e termica attraverso questi stessi moduli a osse di solidi in modalità diretta. Abbiamo fornito supporto nel settore batterie alla Nuco Green Energy Storage nel disegno dei loro moduli e celle di nuova generazione sulla scala di applicazione poi della tecnologia verso il mercato. Principalmente lavoriamo sia nel contesto locale che nazionale ed europeo con tre settori specifici sul tema della ricerca dei materiali per l'energia soprattutto con le università e altri centri di ricerca oltre che con l'industria. Sui pilastri tecnologici di idrogeno e batterie il nostro interlocutore principale di riferimento è l'industria in primis e sul tema applicativo sulle energie territoriali e lavoriamo soprattutto con le istituzioni. Come FBK ci siamo concentrati in quei temi che sono maggiormente sfidanti all'interno della transizione energetica. La sfida delle cosiddette molecole dove lavoriamo soprattutto sui temi legati all'idrogeno e al suo uso in una serie di contesti finali nell'industria pesante piuttosto che nel trasporto pesante. E un'altra sfida altrettanto importante è quella legata all'accumulo di energia nel contesto delle reti elettriche nelle batterie delle prossime generazioni rispetto al quale abbiamo un piano di sviluppo molto ambizioso. Questo per raggiungere tutti gli obiettivi futuri di profonda decarbonizzazione e di realizzare una società libera da emissioni carboniche entro il 2050. Grazie a tutti.